Ciao a tutti voi da Rosi, ancora un appuntamento con la nostra elettrina dell'auto, siamo in compagna di LB concessionaria Opel, accanto a me il responsabile Giuseppe Torre che vi spiegherà anche dove ci troviamo e come arrivare. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao Rosi, buonasera, siamo a Vigevano, in Viale Commercio 110, per arrivare da noi è molto semplice, basta percorrere la statale, la Milano, l'Alessandria, ci troviamo all'altezza poco più avanti del centro commerciale che si trova qui a Vigevano. A Vigevano sì, quindi non è difficile assolutamente trovare naturalmente LB e arrivando qui avrete l'opportunità di vedere tutta la gamma delle vetture Opel e adesso insieme a Giuseppe andiamo a vedere anche le promozioni di questo periodo. Naturalmente inizieremo sicuramente con la novità e quindi con Opel Corsa. Certo, eccola qui la nuova Corsa, arrivata da pochi giorni, nuova Corsa si può avere in tre allestimenti diversi, l'allestimento Edition che è quello di ingresso che vedete qui alla mia destra. Oltretutto le caratteristiche di questa macchina sono eccezionali perché pur essendo un modello di ingresso monta già tutti i sistemi di sicurezza delle macchine di fascia decisamente superiore. Tra cui il sistema ADAS che è un sistema di sicurezza che evita l'investimento dei pedoni, ha il sistema di frenata d'emergenza già di serie anche sul modello più buon mercato, più di ingresso diciamo. Oltretutto su questa auto c'è un'offerta particolare per i neopatentati. Praticamente Opel può dare questa macchina a noleggio per i neopatentati con una rata di 299 euro al mese. Dopodiché si può decidere se restituire l'automobile oppure se sostituirla con una macchina di una potenza superiore per i neopatentati. Sempre su Corsa è possibile anche utilizzare delle formule di pagamento molto particolari, con delle offerte particolari, che si chiamano scelta Opel con tasso del 3,99 euro e si parte da rate di 139 euro al mese. Il vantaggio di scelta Opel è che dà la massima sicurezza di guida al cliente, dopo 2-3 anni può decidere se restituire l'automobile, se tenerla oppure se sostituirla con una nuova vettura e guidare quindi sempre ogni 3 anni una vettura nuova. Sempre parlando di Opel Corsa è anche possibile averla nell'allestimento GS Line che è l'allestimento sportivo. Praticamente a parità di prezzo si potrà scegliere fra avere una nuova Corsa GS Line oppure una Corsa Elegance che è il modello un po' più elegante rispetto alla GS Line. Altra novità assoluta in Opel è il modello elettrico Full Electric con 300 km di autonomia pratici. Corsa elettrica è la prima vettura praticamente uguale e identica alla vettura di serie, quindi gli interni sono perfettamente identici alle versioni che vedete qui esposte, il bagagliaio è perfettamente identico alle versioni qui esposte. Altre novità assolute in Opel sono i SUV, SUV e crossover. La vettura che vedete qui è il crossover di Opel, si chiama Crossland. Anche qui abbiamo delle offerte strepitose, soprattutto con il sistema scelta Opel. Pensate che la 1.2 da 83 CV la si può avere con solamente 139 euro al mese con il sistema di acquisto scelta Opel. Di serie esce già con luci diurne a LED, climatizzatore ovviamente, il sistema Infront Main Touchscreen con l'Apple CarPlay e l'Android Auto, che quindi consente di avere praticamente un navigatore in macchina a condizione che gli venga collegato uno smartphone. Ho ovviamente il Cruise Control, ha il sistema di controllo della carreggiata e oltretutto hanno dei consumi che sono estremamente ridotti. Qui parliamo di macchine che fanno tranquillamente una media di oltre 20 con un litro nel ciclo misto. Oltre alla versione a benzina abbiamo anche le versioni a gasolio, anche qui abbiamo l'offerta di scelta Opel sulla versione a gasolio, 169 euro al mese con scelta Opel. Stessi accessori, quindi luci a LED, climatizzatore, ovviamente sistema Infront Main con il touchscreen da 7 pollici che consente di avere il navigatore a portata di mano collegando uno smartphone. Un'altra novità assoluta che c'è di Crossland per questo mese è la possibilità di acquistarla per tutti, indipendentemente che si abbia o no un'auto da permutare o da rottamare, praticamente con le stesse condizioni di chi ha l'auto da rottamare. E questo è solo ed esclusivamente per il mese di dicembre. Stessa offerta si può avere praticamente anche sulla gamma corsa, anche su gamma corsa possiamo avere la permuta o la rottamazione, indipendentemente dal fatto di avere o no una macchina da dare in rottamazione. Volevo tornare un attimo su Corsa, perché su Corsa c'è un'offerta che è valida solo ed esclusivamente per il mese di dicembre, e riguarda i possessori di Opel, quindi se si ha una Opel in casa, in famiglia, Opel Corsa, praticamente gli accessori che vengono acquistati sull'Opel Corsa nuovo vengono scontati del 50%. Questa è un'offerta riservata solo ed esclusivamente ai clienti Opel. Grandland. Grandland è il SUV grande di Opel, motorizzata con motori a benzina, motori a gasolio e motori e ibridi plug-in. Anche qui abbiamo delle offerte strepitose per quello che riguarda sia il noleggio e sia l'acquisto tramite scelta Opel. Pensate che si può avere una Opel Grandland, si può guidare una Opel Grandland a noleggio a soli 289 euro al mese. Nel noleggio volevo ricordare che è già compresa la tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, copertura assicurativa RC, garanzia e infortunio conducente, polizze incendio furto, casco tutela legale e gestione sinistra e gestione multe. Questo tutto compreso nel canone di 289 euro. E riguarda la Grandland, modello a gasolio, allestimento Advance. Ugualmente si può guidare una Grandland, invece, 1500 Ecotech Advance, turbo diesel, con rate veramente piccole, a 189 euro al mese, con il sistema Scelta Opel. Scelta Opel che, come ormai penso ben sapete, è quel sistema che consente di guidare un'auto nuova ogni due o tre anni, oppure di restituirla alla concessionaria, oppure di rifinanziare l'importo dovuto alla fine. Nel nostro parco abbiamo anche una vasta scelta di auto a chilometri zero. Una la potete vedere qui, è un Opel Mokka, ne abbiamo di diversi tipi e di diverse motorizzazioni, abbiamo sia dei motori a benzina e sia dei motori diesel. Pensate che dal prezzo di listino di queste auto si arriva a risparmiare circa un 40% dal listino dell'automobile nuova. Abbiamo varie scelte di colore, a partire dai grigi, bianchi, qualcosa nero, e anche qualcosa col cambio automatico motorizzata a gasolio. Stessa cosa per quello che riguarda la Crossland. Anche qui abbiamo una vasta scelta di chilometri zero, sia a gasolio che a benzina. Abbiamo anche su Crossland delle auto aziendali, anche qui con prezzi veramente scontatissimi. Anche qui parliamo di chilometri zero con sconti che arrivano fino al 40% e vetture aziendali che rispetto al nuovo si riesce a risparmiare fino a un 50%. Sempre in merito dei chilometri zero abbiamo anche dei modelli Astra. Astra motorizzate sia a benzina che a diesel, sia in configurazione 5 porti che in configurazione station wagon. Sono tutte auto che sono presenti nei nostri stock, si possono provare e anche qui il risparmio si aggira intorno al 40% dal prezzo di listino. Oltre alle Astra abbiamo delle Corsa 120 Anniversary, tutte molto ben accessoriate, con prezzi variabili dai 12.000 ai 12.500 euro. Ovviamente su strada, passaggio compreso. Abbiamo quindi una serie di chilometri zero veramente vasta, visibile nella nostra sede e comunque oltretutto anche tutte con la possibilità di provarle su strada. Altra novità in Opel è Opel Zafira Life che è una scelta accessibile per le famiglie che intendono divertirsi e affrontare l'avventura con eleganza e massimo comfort. Una vettura che può essere utilizzata, come dicevo, sia per le famiglie che per il lavoro, può essere immatricolata sia come autovettura e sia come autocarro, quindi con la detraibilità totale dell'IVA. Oltretutto per questo mese si ha uno sconto del 32% con permuta o rottamazione su questa vettura. Si può avere con tre diverse lunghezze. Si parte dalla piccola, che ha una lunghezza totale di 4,60 m, fino ad arrivare alla più lunga, la più grande, che ha 5,30 m di lunghezza. In ultimo, ma non ovviamente in ultimo, volevo ricordarvi la vasta gamma di veicoli commerciali Opel. partendo dal più piccolo, il combo cargo, disponibile in due lunghezze, con vano di carico fino a 4,5 m e lunghezza fino a 3,44 m. Portata fino a 10 quintali. E vi volevo ricordare che tutti i nostri combo cargo hanno tre posti in cabina, che in questo segmento non è una cosa facile da trovare. Altra possibilità sul combo cargo è quella di avere, ovviamente, motori a gasolio Euro 6 di tempo, quindi quelli proprio di ultima generazione. È possibile averli anche allestiti in doppia cabina, fino a 5 posti. Anche per il combo cargo c'è la possibilità di avere delle offerte di leasing molto particolari, a 139 euro al mese, a un tasso dell'1,99. Con manutenzione ordinaria per 4 anni, assicurazione furto e incendio per 4 anni, e si può avere anche un anno di responsabilità civile, di RCA. Secondo, diciamo, come dimensione, come mezzi commerciali, abbiamo il Vivaro, il nuovo Vivaro. Anche qui possiamo averlo con tre lunghezze diverse. Abbiamo fino a 6,6 m cubi interni e fino a 4 m di lunghezza nel vano di carico. È un perfetto equilibrio fra compattezza e spaziosità, con la possibilità di avere Flex Cargo, che appunto è un sistema che consente di allungare praticamente il vano di carico fino a 60-70 cm in più. Motori potenti ad alta efficienza, tutti 1.500 turbodiesel oppure 2.000 diesel, con potenze che vanno da 100 a 180 CV. C'è anche la possibilità di averli, con cambio automatico, 8 marce di ultima generazione. Volevo ricordarvi anche qui che i motori per quello che riguarda il nuovo Vivaro sono tutti Euro 6 di Temp. Altro tipo di allestimento sul Vivaro è il Combi, scusate, che si può avere fino a 9 posti. Sempre parlando di offerte su Vivaro, da oggi si può avere 169 euro al mese con il leasing top all'1,99, anche qui con 4 anni di assicurazione e furto incendio e compreso anche 4 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. Movano, 4 lunghezze, 3 altezze. Parliamo di un mezzo che può avere circa 80 allestimenti diversi, a partire da versioni furgonate, versioni van, si può arrivare fino a 20 metri cubi di capienza interna, che è il gran volume. Motori da 130 a 180 cavalli, tutti Euro 6 di Temp e oltretutto anche qui c'è la possibilità di avere cambio automatico. Un'altra prerogativa del Movano è quella di poter avere il telaio su cui poter allestire cassone fissi o ribaltabili e di avere anche l'allestimento doppia cabina con cassone fisso e ribaltabile oppure sulla versione van, 6 posti doppia cabina. Da oggi anche sul Movano c'è un leasing molto conveniente all'1,99 di tasso e parte da 199 euro al mese, anche qui con 4 anni di furto incendio, 4 anni di garanzia e manutenzione ordinaria e un anno di RC omaggio. Siamo arrivati al termine di questa trasmissione, abbiamo visto proposte super interessanti sia per l'acquisto sia per il noleggio della vostra vettura a partire dalla grande novità Opel Corsa, naturalmente passando per tutti gli altri prodotti della gamma, ma naturalmente c'è molto altro da dire per cui vi aspettiamo direttamente qui. Vedete sempre indirizzo, numero di telefono e venite qui a conoscere anche Giuseppe Torre e i suoi collaboratori. Ciao Giuseppe, alla prossima. Ciao Rosi, buonasera a tutti. E ciao a tutti voi. Siamo numerosi, grazie.